Ciao a tutti ragazzi benvenuti nuovamente sul canale di PokeShiny e questo oggi vi porto un TCBM da Giacomo Bertoletti che si chiama l'utente faccio rivedere i codici prima di strapparli per aprire la busta ok apriamo di qua in modo da non rovinare troppo l'indirizzo perché mi serve poi per rimandarmi la busta ok allora queste sono le extra vediamo cosa mi invia come extra e abbiamo un cure in bianco reverse di confini marcati raro e un cure nero raro sempre di confini marcati beh belli questi e poi abbiamo qui la carta da scambio che è la devo prima di farvela vedere ok è tra i ex full art ovviamente in ottime condizioni eccolo qui allora non ci scrive i bigliettini ci ho contato bene la busta no niente va bene ragazzi allora io ringrazio tantissimo Giacomo Bertoletti per questo scambio perché tra i miei ex era una full art che cercavo per completare il set di glaciazione e vi aspetto per altre aperture ragazzi ciao ciao